Eccoci, eccoci, eccoci come state, ben ritrovati, un buon 25 aprile da parte mia dopo il video di questa mattina di Leonardo Martinelli, la voce del diavolo, grazie per essere sempre presenti, una buona giornata e una buona festa. Mi raccomando commentate numerosi qui sotto, lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi. Ecco, test, lasciate un like se non vi vedete rappresentati, non vi sentite rappresentati dal presidente del Milan Scaroni. Voglio vedere quanti, quanti, quanti non si sentono rappresentati da Scaroni. Commentate, iscrivetevi anche al mio canale personale, vi metto qui sotto il link, grazie per chi lo farà e vi aspetto alla festa di Milano il 3 maggio. Ci sarà anche Maurizio Bricchi di bricchicazzaniga.it, vi ricordo se avete bisogno di un poliambulatorio affidabile, esperienza quasi quarantennale in via Murat a Milano, affidatevi a bricchicazzaniga.it, vi metto qui sotto il link, con odontoiatria, osteopatia, fisioterapia, anti-aging, medicina estetica e la cura del vostro ben-essere. Questo è il loro slogan, andate sul sicuro, tra l'altro sono grandissimi milanisti, valore aggiunto. Scherzi a parte sono la garanzia, la tranquillità e la sicurezza in termini di benessere. Qui sotto vi metto il link, un saluto a Maurizio e alla famiglia. Allora ragazzi, che dire, da che cosa partiamo? Allora partiamo subito, c'è anche una discrezione shock. Partiamo subito da che cosa? Da Scaroni, perché ieri sera prima di dormire nel video sul mio canale personale ho fatto un piccolo accenno, ma ora vorrei partire da qui e dedicargli un minuto e mezzo. È presidente del Milan, è un presidente nel quale non mi rivedo per niente, non mi sento rappresentato, quindi lascio il like, voglio vedere quanti di voi lo lasciate, che ogni volta che parla dice qualcosa che ci dà fastidio. Ricordo, per il Milan lo Scudetto è un di più, un di più. È questa partita prima di Milan-Borussia, il Milan non doveva neanche farla, perché doveva farla la Juventus, noi siamo arrivati i quinti, e poi ancora l'obiettivo è arrivare nei primi quattro posti, e poi ancora ieri, in un momento delicato, cosa dice? Ci piacerebbe ogni tanto vincere con l'Inter, ogni tanto, così è, se capita, ogni tanto. E poi risponde a Maldini, che ha questa acrimonia, guardando al passato, che questo, diciamo così, questo rancore evidentemente non è felice del suo presente, mi auguro che non sia il caso, andando a colpire in un momento in cui, secondo me, non se lo può permettere, come non se lo potrebbe permettere mai, una parte della storia del Milan, una bandiera del Milan. Andando poi sul personale, con Maldini che poi ha replicato pubblicando una storia felice a Parigi, dove tra l'altro mi dicono che ieri ci fosse anche l'Eao, spesso va lì, non è un indizio di mercato. Detto questo, Maldini diceva delle cose nel suo operato al Milan, non in generale sulla vita. Scaroni va sulla vita, è un esercizio sempre sgradevole, e poi è ovvio che chi è stato mandato via non possa parare che corre ancora, perché si sentiva nel... il Milan era alla sua casa e è stato mandato via da casa sua. Detto questo, Maldini diceva a Scaroni che se perdevamo andava via prima della fine, per non trovare traffico, non chiedeva mai se c'era bisogno di supporto ai giocatori, al gruppo, alla squadra. Qui si risponde così, mettendo un dito nell'occhio, un colpo basso. E Scaroni ulteriormente, secondo me, si dimostra non all'altezza del ruolo, di quella posizione del Milan, che è una cosa importantissima, un club importantissimo, al di là della nostra fede. Quindi, anche noi vorremmo non ogni tanto vincere con l'Inter, sempre, vorremmo vincere, ma vorremmo ogni tanto qualche dichiarazione non surreale. Ecco, ci farebbe tanto piacere. E speriamo davvero che il Milan torni a essere un club forte anche per un presidente diverso, oltre che qualche dirigente diverso, oltre che un proprietario diverso. A proposito di proprietario, e poi vi do un aggiornamento sulla panchina, a proposito di proprietario, ma non solo, oggi ci sono tante novità, tante notizie, arriva questa indiscrezione shock da Repubblica. Il Milan oggi è un club che, ricordiamo, è sotto indagine. Qual è il vero proprietario? La tesi, l'accusa che il vero proprietario sia Elliot e non Redbird, che ovviamente si dichiara tranquillo. È un'indagine che ha, di fatto, rallentato l'ingresso di fondi arabi nel Milan. E, di fatto, il danno, oltre a questo, del fatto che non siano entrati subito gli arabi, è il fatto che sia tornato comunque in sella Furlani, che rappresenta ancora Elliot nel Milan. E questo sta creando anche dei problemi per la scelta del nuovo allenatore, riducendo l'ambizione, purtroppo. Questo è l'altro danno che ha creato questa indagine. Repubblica oggi scrive una cosa nuova. Per la serie Non c'è mai serenità, purtroppo. Che cosa scrivono a Repubblica? Eccolo qui. Ve lo recupero subito. La discrezione sarebbe clamorosa. È clamorosa l'indiscrezione, poi non è detto che sia vera la notizia. Perché, secondo il quotidiano, la proprietà del club da questi documenti non sarebbe di Redbird, ma di un fondo olandese. Jerry Cardinale e Redbird, si legge, non sarebbero gli azionisti di maggioranza del Milan. Il documento pubblico, secondo il quotidiano, sarebbe il modulo ADV, documento atto a racchiudere le principali informazioni sulle strategie di investimento e sui clienti. Da questo modulo, ADV, emergerebbe che i fondi gestiti da Cardinale hanno un unico referente non statunitense per il quale è stato costituito ad hoc RBFC Old XCV. Un fondo privato con sede in Olanda, che serve quindi il vero azionista di maggioranza del Milan con poco più di 410 milioni di euro investiti. Quindi, tra tutti, chi ha investito di più? Questo fondo olandese, non Redbird. Qui siamo a livelli delicati, diciamo così, di finanza, che non è sicuramente la mia materia. Vi leggo il tweet di Felice Raimondo, un avvocato milanista molto informato, che scrive nel form ADV, che è stato trovato facendo una ricerca a Google, il primo nome della lista, cioè il primary business, Redbird Capital, eccetera, eccetera, controlla tutti gli altri menzionati nel documento. A pagina 10 vengono menzionati gli investimenti fuori dagli USA e per appunto si parla di 437 milioni. Da pagina 15 in poi ci sono menzionate le società controllate, incluso il veicolo olandese RBFC Holdings, che appartiene Redbird. E quindi a cardinale, come dimostra un altro form, anche Repubblica sarà sfuggito. Insomma, cose un po' complicate, è un tweet lungo e si parla in questo caso di accanimento morboso per la situazione proprietaria del Milan, che è chiarissima. Mentre nessuna indagina, domanda, ricerca, neanche a mezzo giornale, viene svolta sulle altre società. Ci ho capito un granché, ve lo dico onestamente, però ecco, ulteriore, diciamo così, caos attorno al Milan, in questo caso da Repubblica, secondo cui il vero proprietario non è Redbird, dove è un fondo olandese, privato, di chi non si sa. Dall'altra parte, Felice Raimondo dice, non è così. Diciamo che abbiamo passato periodi migliori? Sicuramente sì, e vorremmo, credo di parlare per tutti, più serenità, e magari guardassero anche un po' altrove. Ad esempio, sull'Inter, vedo che non c'è la stessa attenzione morbosa, citando appunto il tweet che c'è invece sul Milan. Detto questo, vediamo le evoluzioni, e ripetiamo, quell'indagine comunque è stata sicuramente dannosa, e per l'ingresso di Arabi, rallentato, procrastinato, che slitta, e perché Furlani è tornato in sella, e cerca di fare anche lui la voce grossa. Vi ricordo, prima dell'indagine, qualche mese fa, al Financial Times, Cardinale disse, a Milan comanda Ibra, su tutti a casa Milan. Cardinale ha detto questa cosa qui, quindi Ibra sopra Furlani. Già lunedì scorso, lunedì della scorsa settimana, no, lunedì di questa settimana, dopo il derby, Furlani dice, area sportiva, Moncada, Ibra e io. Come dire che qualcosa nel frattempo è cambiato, e credo proprio che sia dovuto al fatto che sia ancora lì, Furlani, Elliot, a causa di questa indagine, che è stata sicuramente, al momento, dannosa. Aggiornamento, poi, per quanto riguarda la panchina, e non solo. Aggiornamento per quanto riguarda la panchina, allora, intanto oggi, sto pensando se è uscito qualche nome nuovo, no, oggi, 25 aprile, forse è il primo giorno in cui non è uscito un nome nuovo. Però ecco, nel video che vi ho fatto ieri sul mio canale personale, prima di andare a dormire, vi raccontavo per chi l'ha visto, e per chi non l'ha visto, soprattutto ve lo dico adesso, che un altro nome dovevamo far fuori, depennare quello di Xavi del Barcellona, che dopo la riunione ieri sera, con la dirigenza Blaugrana, con il board Blaugrana, resterà al Barcellona, anche per i prossimi anni. Quanto meno per il prossimo anno, e quindi è un altro nome che mettiamo da parte, così come dovrebbe essere accantonato quello di Konsei Sao. Ne resterà soltanto uno. Ieri Zatan Ivraimovic era a casa Milan, e c'è stato un ulteriore meeting, summit, per quanto riguarda il ruolo del prossimo allenatore del Milan. Quindi, questa è la situazione. Poi nel prossimo video andiamo a fondo con ulteriori indiscrezioni molto importanti. Aggiungo un altro aspetto, perché ieri c'è stata la partita dell'Atalanta. Tra parentesi, ragazzi, Scamacca, che io avrei voluto in estate, mi sembra che stia facendo vedere finalmente cose importanti. Sbaglio? Ecco, l'Atalanta comunque con Gasperini è in semifinale Europa League, è in finale di Coppa Italia. E a noi dicono che Pioli ha fatto un buon lavoro. E allora Gasperini che lavoro ha fatto? Monumentale? Un ottimo lavoro. Ma c'è un abisso, purtroppo, rispetto a quello che ha fatto quest'anno Pioli. Scamacca a me non dispiacerebbe. È più 9 di Zirze, ma Zirze è più qualitativo. In questo momento il Milan è su Zirze, sul quale pare ci sia anche l'Inter, che può arrivare a Zirze, soltanto si cede uno dei suoi big, quindi Lautaro o Turam là davanti. Ma non voglio parlare di questo in questo momento. Diciamo che ieri abbiamo messo un punto importante, non ancora ufficiale, ma manca soltanto l'ufficialità, che è arrivato dalle parole di Percassi, a di dell'Atalanta, Luca Percassi, che su De Chetelare dice gli consiglierei di prendere casa a Bergamo, qui si sta bene. Quindi rispetto a lo riscattiamo, non lo riscattano, non lo riscattano, non lo riscattano, non lo sconto, ieri sembra essere stato messo un punto su De Chetelare, che quindi resterà all'Atalanta. Anche lui stesso aveva detto non voglio tornare al Milan, dimostrando una mediocrità importante, perché diceva non voglio far panchine, invece di dire torno e dimostro chi sono. Detto questo, De Chetelare quindi porterà 23 milioni di euro al Milan, più 3 milioni di bonus, quindi 26 milioni di euro da spendere, più 10% della futura rivendita, che evidentemente non sarà quest'estate, ma sarà un domani. Quindi se un domani venderanno De Chetelare a 60, al Milan prenderà altri 6 milioni di euro. Nel frattempo facciamo una piccola plusvalenza su De Chetelare, non facciamo minusvalenza, incassiamo 26 milioni di euro e sono 26 milioni che dovranno essere spesi bene, cercando di alzare l'asticella. Poi una cosa dice Furlani, dovrà essere un mercato diverso da quello scorso anno, non dovremmo fare molto. Beh, parliamone, parliamone, sul non dover fare molto. Forse non dover fare molto a livello numerico, ma numero 9, titolare, centrocampista difensivo titolare, difensore titolare, siamo già a 3 e magari anche il terzino, siamo già a 4. Quindi, togliamo anche magari il terzino. Devo dire che sarà un mercato, invece secondo me, ancora imponente, importante, importante anche in quello che ti deve portare, cioè dei giocatori titolari. Questo è con 26 milioni di euro da spendere e speriamo un grande allenatore in panchina. Su Antonio Conte, ragazzi, ci sono delle novità anche importanti. Nel prossimo video andremo a spiegare bene che cosa sta accadendo. Conte, Ibra, situazioni che stanno vivendo delle ore importanti barra decisive. Detto questo, il 3 maggio prenotatevi in fretta perché stanno per esaurire i posti. Siamo già un centinaio di prenotati, quindi davvero tanti. Sarà una bella festa, ci sarà anche un videomaker, vi rivedrete poi nel video su Milanello e quindi qui sotto c'è il numero di telefono. Iscrivetevi però anche al mio canale personale, ci tengo tanto. Iscrivetevi qui e lasciate un like se non vi sentite rappresentati da Scaroni. Vorrei questo video con il rigor di like perché credo che non ci sia un milanista che si sente rappresentato da Scaroni. Vi rimando al video precedente, con Leonardo Martinelli sempre pungente e ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti. Grazie, un abbraccio a tutti. Buon 25 aprile di nuovo a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.